Prego, Sandro. Allora oggi ci confronteremo con questa distanza siderale che in genere non è, però si presta anche alla performance che ne è con il pubblico. Intanto grazie mille a Giorgio De Finis, al Museo delle Periferie, al Palazzo delle Esposizioni che ospita questa partenza e lascerei subito la parola a Giorgio che è l'ospite. Grazie a voi, abbiamo immaginato, anzi devo dire questa volta abbiamo chiesto a Stalker di aiutarci a immaginare un momento che chiudesse anche quest'anno di celebrazioni pasoliniane. Qui siamo al Palazzo delle Esposizioni, alle nostre spalle c'è la mostra dedicata a Pasolini, santo, anche un po' santino in questa versione, mi viene da dire. Però diciamo che si chiude il 19 che è proprio la giornata che Giulio e Lorenzo ci hanno proposto per questo loro progetto. Quindi per noi è un finissaggio, ma è anche una data molto più importante, diciamo invece, perché è l'anniversario di questo massacro di Addis Abeba. Quindi è una data importante, quindi molto importante e sulla quale, insomma, occorre lavorare ed è questo, diciamo, l'obiettivo di questo progetto molto ambizioso. Quindi circostanza Pasolini, cos'è una circostanza, ce lo spiegherà Giulia, ce lo spiegherà Lorenzo, cos'è il loro progetto anche che prevede tanti ospiti importanti, tante tappe di lavoro, anche legate due settimane molto dense, molto attive sul territorio di preparazione a questo evento pubblico del 19, domenica 19. Quindi io sono molto contento, il museo è molto contento e naturalmente il tema decoloniale è uno dei grandi temi anche il Museo delle Periferie vuole affrontare, perché non ha importanza che si tratti di una targa, poi non anticipo che si mette in centro, cioè, diciamo, ripensare la città per il Museo delle Periferie vuol dire togliere l'uomo vitruviano dal centro, vuol dire metterlo, lasciare questo centro libero che possa essere attraversato da tutti e mettere tutti gli altri, comprese le altre forme di vita, comprese, diciamo, in maniera equidistante su questa periferia. Quindi il progetto del Museo delle Periferie non è solo quello, ovviamente, di portare delle cose a Torbella Monaca o di raccontare i palazzoni, è anche questo, naturalmente, ma è un cambio di paradigma, diciamo, cioè andare a ripensare la città facendoci tutti un po' più perifria, che vuol dire, appunto, toglierci da questo benedetto centro, no, di potere, anche di violenza, no, di sovraffazione, su cui la città ancora è costruita, perché questa rivoluzione copernicana non si è compiuta, diciamo. Quindi, diciamo, al di là dell'opportunità, dell'occasione, è proprio al cuore delle cose su cui stiamo immaginando di lavorare, diciamo, questo progetto, che però, diciamo, lascio spiegare a chi lo ha pensato e organizzato. Grazie mille. Grazie. Grazie, Giorgio, del Museo delle Periferie, ringrazio anch'io, e speriamo di, insomma, di arrivare a un punto di interesse e questa grande felicità di fare qualcosa insieme possa portare veramente alla costruzione di un percorso che poi continuerà dopo il 19 febbraio insieme. Allora, che cosa è questa circostanza Pasolini per accogliere una proposta, appunto, del Palazzo dell'Esposizione e del Museo delle Periferie? L'idea è di continuare sul percorso che da alcuni anni stiamo portando avanti come stalker insieme alla Scuola di Urbanesimo Nomade della Zattera, ovvero quella raccolta, quella riattivazione, far riemergere delle memorie invisibili o abbandonate o dimenticate della Roma nei 150 anni di Roma Capitale. Sono memorie spesso legate alla migrazione, prima della campagna romana, poi del sud d'Italia e negli ultimi anni del sud di tutte le parti del mondo, che in qualche modo, informalmente, spesso in situazioni di estremo disagio sociale, economico e culturale, hanno in qualche modo definito dal basso la città, le trasformazioni urbani, sociali e nonché politiche di questa città. Ed è quello che un po' ci interessa, dare memoria, riattivare questi luoghi, queste storie, ma anche per riattivarli e capire come si sta trasformando la città oggi e come certe storie sono diverse ma anche simili. E questo l'abbiamo fatto in questi tre anni con la Zattera e accogliendo questa proposta abbiamo pensato di continuare in questa direzione e di proporre una circostanza. La circostanza non è una passeggiata della domenica mattina, non è una camminata di stalker, è qualcosa che si compone dalle persone che la frequentano, che arrivano, che la vogliono costruire insieme. Si trova nello spazio pubblico, nello spazio urbano della città, che può essere uno spazio molto lungo, anche uno spazio molto limitato, ma vuole mettere insieme le storie invisibili, ma anche quelle istituzionali, con quello che succede oggi, con le persone presenti e insieme capire che cosa possiamo pensare, anche in modo critico, anche mettendoci in discussione. Quindi questa circostanza avverrà il 19 febbraio, che coincide appunto con il ricordo del massacro di Addis Abeba, o Yegatit XII, qualcuno parlerà molto meglio di me di questo, ma coincide anche con una memoria di Pasolini rispetto alla questione africana. Abbiamo pensato come parlare oggi di Pasolini, dopo un anno di celebrazioni e molte mostre in città, e allora non pensare al futuro di Pasolini e al passolo nostro, trovare un punto di incontro limitato alla questione africana, anche qui è un cortocircuito molto delicato, ma poi capire anche che cosa la diaspora delle comunità etiopi e delle comunità eritree, insomma del corno d'Africa, ha vissuto e vive la nostra città, ha vissuto dagli anni Ottanta, insomma anche prima, la nostra città e specialmente il quartiere intorno a Termini, Castro Pretorio e Squilino, ma anche come oggi vivono molte persone delle comunità etiopi, eritree, che vivono nelle occupazioni abitative, e quindi come si sono mosse nella città e come anche in questi hanno definito una trasformazione della città, ma anche in situazioni molto estreme, come l'hotel Kerba, l'hotel Africa a stazione Tiburtina, sgomberato nel 2004, mi sembra, oppure l'insediamento di Ponte Mammolo, dove tantissime persone abitavano in situazioni veramente come un villaggio africano a due passi dalla metropolitana di Ponte Mammolo, o come la situazione più estrema anche nel 2017 in pieno agosto, quando molte persone, per lo più etiopi, eritree, sono state sgomberate da Piazza Indipendenza, in modo brutale, mamme strappate per i capelli, figli strappati dalle braccia dei genitori, colpevoli di cosa? Questione aperta. Quindi vorremmo veramente, anche in modo un po' azzardato, che potrebbe anche indignare, mettere insieme tutte queste storie, anche per, diciamo, per aprire una questione con i partecipanti, diciamo che chi è con noi non è un pubblico, non abbiamo un pubblico nella nostra circostanza, ma tutti sono complici o partecipanti di questa nostra azione, per cui anche mettendo insieme storie diverse, tra passato, futuro, ma anche essendo noi stessi archivio di quello che facciamo, perché appunto, come abbiamo imparato, da Archivio Memorie Migranti, quanto è importante dare testimonianze del nostro tempo. E quindi noi, attraverso la nostra azione, facciamo rimargere un passato, ma siamo noi stessi testimoni di quello che stiamo facendo e lo lasceremo come a un futuro. Quindi veramente cortocircuito, temporale, spaziale, ma anche questioni diverse, per attivare una critica positiva a quello che stiamo facendo. E rispetto a questo, per darvi un'idea di che cos'è una circostanza, vi vorremmo far vedere un film documentario fatto da Pier Cattare e Mirice Tanzini, che è anche qui in sala, che sarà anche felice di accogliere dei vostri commenti alla fine, che racconta un po' che cos'è la circostanza. Questo l'abbiamo fatto a Borghetto Prenestino, a gennaio del 2021, in zona ancora arancione, quindi era anche un momento in cui c'era proprio la voglia di tornare nello spazio pubblico e ritrovarsi insieme, con anche un rischio di fare tutto ciò, anche proprio cambiati da quello che era successo dal Covid. E siamo a Borghetto Prenestino, uno degli insediamenti delle baraccopoli, chiuso nel 1980, più grandi dell'epoca, diciamo, dei borghetti, dagli anni 30 fino agli anni 80, che ci sono stati a Roma. e racconta una storia che anche oggi si può ritrovare, per cui se volete la possiamo vedere subito e poi iniziamo più a entrare nel merito di quello che saranno queste due settimane. L'idea è fare proprio una scuola, che inizierà domani, c'è un programma che potete vedere in questi fogli, che poi distribuiamo, per cui siete tutti i benvenuti, e ci saranno vari incontri. Domani saremo piuttosto nel quartiere Squilino e Castro Pretorio, a vedere i negozi della comunità etiope-eritrea e capire che cos'è il quartiere, andremo proprio anche a Piazza dei Cicco e Cento, mentre sabato prossimo avremo un incontro con Giovanna Trento, che ha scritto un libro tra Pasolini e l'Africa, mentre il pomeriggio, a Madò, al Museo dell'atto di ospitalità, che si trova a Spin Time, faremo un incontro con alcune protagoniste della diaspora etiope-eritrea, che vivono oggi nelle occupazioni. Sentiremo da loro, ricostruiremo con loro questo spostamento all'interno della città, attraverso le occupazioni abitative. Vogliamo vedere il film? Grazie. Grazie a tutti. Guardo il passato da un presente già passato. Il mio punto di vista continua a spostarsi. C'era qualcosa che è stato cancellato. Ma non del tutto. Nel film Stalker di Tarkovsky, la zona è un luogo of limits, misterioso, con dei rischi e delle possibilità, dove i protagonisti cercano qualcosa di essenziale, come me, qui. Questa zona è il Borghetto Prenestino, Roma Est. Ci hanno abitato migliaia di famiglie, per lo più immigrate dalla Calabria, dall'Abruzzo, in cerca di una vita migliore. ciò che so oggi di questa storia, l'ho imparato grazie a un'esplorazione molto particolare, la Zattera. La Zattera è il nome di questo giornale. La Zattera è anche un lavoro sulla memoria, un progetto di apprendimento aperto, per ritrovare i fili che collegano il presente al passato. Ora vi racconto l'esperienza di ricordare insieme questo luogo, di cui abbiamo ritrovato alcune tracce, disperse lì dov'era. la Zattera è un'esplorazione di ricordare insieme a un'esplorazione di ricordare insieme al passato. Dopo tanto tempo chiusi in casa a causa del Covid, è la prima volta che ci incontriamo in pubblico. L'appuntamento è alla stazione Prenestina. Adesso lascio la parola a Lorenzo. Siamo ritrovati qui alla stazione, immancabilmente perché che si venisse a lasciare il centro storico, che si venisse dall'Abruzzo, da qua si veniva al Borghetto Prenestino. E alla stazione c'era un po' di quei riferimenti, c'era un minimo dispaccio, qualche sigaretta sfusa, il giornale, il caffè. E soprattutto la stazione è quella porta anche della clandestinità, perché dal 1939 il governo fascista fa una legge che impedisce il diritto di cittadinanza a chi in città non ha il lavoro e impedisce il lavoro in città a chi non ha il diritto di cittadinanza. Nel 2009 Berlusconi ripristina il principio a favore dei migranti e questo principio purtroppo vale ancora oggi, quindi ci troviamo più o meno come ci trovavamo allora. Questo è anche, come dire, un cortocircuito, ce ne faremo diversi di cortocircuiti, fra quello che succede oggi e quello che è, non so, è quello che è successo. Prego. La prima famiglia che è stata qua è stato mio nonno, nel 1927, mia madre c'era tre anni, sfrattata da via Luciano Manara, perché dissidente a regime, buttata qua sopra così. primo figlio, vent'anni morto di Brocco Pormonire prima che facesse casa. Poi nel mio 130 lui ha fatto l'elite, primo lotto e secondo lotto, ma però le prime famiglie dissidenti sono state buttate così. Ma tu da oggi stai qua, non stai più a via Luciano Manara, a Trastele. Questa è la storia della famiglia innocente. Da oltre due mesi, faccio dei sopralluoghi con gli altri esploratori della Zattera per preparare questo giorno. E' un sasso. Durante uno di questi sopralluoghi, abbiamo incontrato una donna che ci ha raccontato che da bambina c'era una baracca con un cortile e nel cortile un albero di fichi che le offrivano. Oggi piantiamo un noce, un olmo e un fico. So fanello e so de pietra lata Tredici anni con qualche mese in più ma da quando la scuola m'ha cacciato con la vita me la vedo a tu per tu. Se è mio padre che non mi dice niente E' mia madre un coraggio che ha da fare Se è mio padre che dà un tavolo a gente Che da sempre se è la satanà Questa in piedi sono io accanto a Stefania Placidi che interpreta la canzone di un cantautore cresciuto nelle baracche di Pietralata altra grande borgata romana. Voi avete fatto festa perché da cento anni Roma è capitale d'Italia. Leggo le voci dei bambini degli anni settanta che abitavano qui nelle baracche ed erano destinati ad un'educazione inferiore nelle classi differenziali. Alternativa alla scuola ufficiale dove erano discriminati nacque una scuola popolare il doposcuola di Borghetto Prenestino che raccolse la loro esperienza. Nella mia scuola i ragazzi delle baracche erano quelli silenziosi cioè loro non parlavano ci fu... gli psicologi e i sociologi lo dicono meglio di me ma uno shock culturale cioè questi bambini a 4-5 anni dalla Calabria dalle Puglie vengono qua si ritrovano in un contesto completamente nuovo quindi si sradicano e io avevo appunto in classe eravamo 36 perché erano delle classi veramente quelle e circa una quindicina erano i ragazzi delle baracche io di molti di questi non ricordo il suono della voce erano sempre silenziosi lo sraditicamento lo shock fu terribile. A scuola stiamo indietro infatti i figli dei borghesi possono dire molte parole poi hanno l'enciclopedia invece noi dobbiamo insegnare ai maestri come stiamo abbiamo bisogno di una scuola dove si parli della nostra vita Mio padre ci ha sempre letto ad alta voce ho ricevuto un'educazione ricca leggendo mi sento radicata e forte la consapevolezza di questi bambini mi commuove la sera io ai topi li tiro con la scarpa quando piove mio padre mette la bagnarola sul letto con attenzione usciamo diciamo da quelli che sono gli spazi del quotidiano siamo nei luoghi dei film di Pierpaolo Pasolini che raccontava le vite degli ultimi incontrò Ninetto Davoli che abitava al Borghetto e che divenne uno dei suoi protagonisti eccolo sul nostro giornale accanto a Totò nel film Uccellacce e Uccellini è oggi fra noi è lui con i capelli bianchi nel 14 gennaio 1954 ovvero il giorno in cui un aereo da Manila proveniente da Manila che si era già fermato a Kabul e a Beirut stava per arrivare a Roma la pista è occupata la pista di Ciampino è occupata dalle forze armate americane ha bisogno di fare un giro perde quota si dice che sia stato un eroe perché è riuscito a evitare le case già presenti di Villa Gordiani e il Borghetto e a precipitarsi qui dove appunto l'aereo scoppia si fa in mille pezzi non c'è nessun superstite ed è strano che una memoria così non abbia proprio nessun luogo a me ha fatto molta emozione in Saragosto dove quest'aereo in pratica ha fatto proprio un solco ha fatto una buca dentro questa grotta c'era un disagiato un vecchietto dove cucinava mangiava stava lì a dormire una coletta di questa grotta e mi ricordo perfettamente che noi ma in realtà diciamo le nostre sofferenze o i miei amici gli portavamo qualche cosa da mangiare pezzo di pane qualche cosa che avanzava a noi la portavamo a lui diciamo onestamente che avanzava Don Polo ci vuole dire due parole qua nel luogo della strage in questo posto che stiamo cercando di riaccreditare alla memoria collettiva dove nel 1954 15 persone precipitarono con un aereo morirono tutti Gesù dice che se il seme non muore non porta frutto ma rimane solo questo pilota ha lasciato la propria vita ha perso la propria vita per non per non togliere la vita ad altre persone anche se non era colpa sua ovviamente ci insegni un po' questo ad avere il coraggio di morire un po' per dare vita ad altri e che il Signore Creatore del mondo benedica questo momento doni la pace a quelli che hanno perso la vita e vita nuova a quelli che ne hanno bisogno nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Le lamiere e i rifiuti sembrano i resti dell'aereo e invece sono le tracce di un rogo recente sono state bruciate baracche del ventunesimo secolo Tra questi detriti mi torna in mente una domanda che ho letto sul nostro giornale Scoprire, capire e spiegare ci rende più felici? Vedere la scena dei disastri e le trame e i disagi ci aiuta a migliorare? Dove oggi vediamo gli alberi o un parco c'erano prima le baracche Nel 1980 il parco è intitolato a Pasolini i baraccati ottengono le case popolari dopo una lunghissima lotta in uno dei capitoli di questa battaglia i baraccati occupano il Campidoglio per tre giorni e rimangono anche la notte è inverno fa un freddo eccezionale e la storia continua a raccontarla a Stefania a un certo momento avevano freddo e che cosa fanno? sul fantastico meraviglioso pavimento Michelangelesco iniziano a accendere il fuoco per loro è un'idea assolutamente naturale fa freddo accendono il fuoco arriva immediatamente la polizia e io ma che siete pazzi questo è il pavimento di Michelangelo e questi giustamente magari ne potevano sapere dell'importanza del pavimento insomma gli viene proibito bruscamente di accendere i fuochi però poi passa un carabiniere e gli dice ma voi non siete calabresi fa agli occupanti del Campidoglio e si e beh e allora come vi riscaldate quando non c'è il fuoco i calabresi in un modo si riscaldano ballando e quindi c'è la testimonianza di un tamburellista che prende il suo tamburello direttamente dal suo mondo popolare calabrese e inizia a dare la terzina popolare quella della tarantella e inizia ad improvvisare degli stornelli io ve la faccio sentire la famosa ormai diventata famosa come tarantella dei baraccati e fa così stanotte ci so stato domani notti puro non mi ne voglio manco se mi portano all'oscuro non mi ne voglio manco se mi portano all'oscuro e in capo di cinque giorni che mi trovo sotto cavallo non mi ne voglio manco se mi arresto marescia non mi ne voglio manco se mi arresto marescia e in capo di cinque giorni che mi trovo capitoio non mi ne voglio manco se mi spuntano l'olicorna mi ne voglio manco se mi spuntano l'olicorna e in capo di cinque giorni e in capo di cinque giorni diventa nient'altro che un modo per mandare avanti la terzina darita e così e riprendono gli tonnelli tutti improvvisati io per solito sto facendo ordinare Renà raccontaci un po' come era fatto qua qua non c'era niente questa non c'era questa strada e che c'era? era tutto terreno tutta borgata queste case sono state buttate giù è venuta l'edilizia e poi queste prime case hanno mandato via tutte altruna andiamo a vedere com'era va vediamo se ti ricordi e faremo una serie di azioni di tappe tutti insieme in qualche modo mi fanno utilizzare ogni tanto insomma prima di questa esperienza non sapevo neanche dell'esistenza di questo luogo la zattera con attenzione e delicatezza mi ha permesso di scivolarci dentro superando confini e di abitarlo a modo mio e non mi interessa conoscere la storia se non per raccontarla ad altre persone ho chiesto per il Messino 25 dicembre 1969 intervista con il sindaco di Roma a parte del genere ma non è che lei è venuta proprio oggi qua qua tranno noi e noi abitiamo qua in baracca noi lavoriamo qua in baracca e ci chiediamo ora io perché oggi non la ragione e non un altro ragione con questo po' di rinforzo che io e lei incontrava le persone che mi ha invitato O mai un po' un po' perché... ...e non ci la dà di più... ...e non ci sono... ...e non ci sono... ...e non ci sono... Bene, grazie ancora a Pier e Mirice, che anche dopo se volete sarà anche felice di avere qualche riscontro su questo. Questa è un po' un'introduzione a quello che vorremmo fare anche con voi, con chi ci sarà di voi, sia durante queste due settimane che il 19 febbraio. E anche in quel caso fare un documentario per lasciare anche traccia di quello che faremo. Entriamo nel merito dei contenuti, quindi lascio la parola a Lorenzo e poi invito di nuovo, ci siamo persi Alessandra e Aster, quando volete salire. È un po' strana questa distanza, questo palco, diciamo oggi siamo ospiti qui, anche perché a noi piace essere trasversali a tanti anche mondi e spazi diversi, quindi oggi saremo così e domani saremo invece per strada. Configurarsi, diciamo, un po' ai luoghi, no? Questo è anche un tentativo. C'è un... questa è per noi anche una ricerca artistica, anche il ruolo che ha, può avere l'arte, rispetto alla consapevolezza sociale. E anche, come dire, ha la possibilità che la memoria sia un contributo nel roppere certe barriere, nell'insorgere davanti all'insopportabilità, di certe forme di oppressione, che ancora la nostra, anzi a volte si verrebbe da dire, ancora sempre di più la nostra società esercita. Il tema della circostanza, e la riflessione attorno alla circostanza, è un po' anche questo un tentativo di costruire un linguaggio in qualche modo, che si riferisca anche a questa... Ci vuole un microfono spento, oppure sono io che questo è alto, no? Sono tutti spenti? Spento quello? Spegnilo, spegnilo, schiacciolo a lungo. Grazie. La circostanza come una sorta di entangli, no? Di dimensione quantica, cioè, e Roma è come uno spazio importantissimo, perché appunto vive, Roma ci abita, e ci abita nelle sue dimensioni, quindi come attraversarla, e come il fatto della convivenza di tempi diversi ci può permettere di agire, solleticare coincidenze o circostanze. Però anche una relazione alla condizione, alla condizione umana, alla condizione di Anna Arendt, quella condizione irriducibile, no? In cui siamo costretti appunto oppressi, visto i temi che parliamo, oppressori. La circostanza cerca anche di rompere questa dimensione di condizione e portare invece l'occasione dell'incontro, attraverso delle barriere, che sono anche barriere culturali, barriere sociali. E' questo lo sforzo che facciamo appunto da qualche anno con Giulia e con la scuola di urbanismo nomade e con questo bellissimo concatenarsi di realtà e di soggetti che è nato appunto dall'esperienza, dal desiderio di costruire racconti di questi luoghi. E grazie mi dice per questa meravigliosa narrazione così soggettiva, di un'esperienza così collettiva. E quindi quello che vogliamo fare è appunto una circostanza. E qui poi la circostanza è anche tattica, nel senso che come direbbe Debord, cioè c'è anche l'opportunità, cioè chiude a Palazzo delle Esposizioni una mostra su Pasolini. Quanto è difficile dire qualcosa su Pasolini oggi, in questo frastuono di esposizioni, di pubblicazioni, assenso e come avvicinarci. Quindi circostanza vuole che appunto questa data è proprio la data a cui noi ci stiamo dedicando, ci siamo già dedicati l'anno scorso, creando un momento di attenzione e di incontro con le comunità del corno d'Africa, in particolar modo con la comunità etiope. E attorno a questa cosa assurda, assurda, cioè questo paese non sa, perché sai non ricorda, diciamo non lo sa proprio, cioè non vuole sapere, non lo sa, non ricorda. Comunque sfugge il fatto che italiani, qualcuno dice fascisti, ma non erano solo fascisti, erano soldati italiani, fascisti, i coloni, presenti ad Addis Abeba il 19 febbraio 1937, come reazione psicotica, psicopatica, a un tentativo della resistenza etiope, un attentato che colpisce, mille frammenti colpiscono le natiche del generale Graziani. Questa cosa scatena un eccidio, un eccidio che si protrae per giorni, su cui calcolo delle vittime, ancora, no? Adesso c'è questa ultima pubblicazione di John Camber che prova a mettere una definizione, è perché noi non sappiamo questa cosa? Cioè come cacchio è possibile? Perché non la sappiamo? Perché non sappiamo che c'è un monumento che ricorda 500 morti italiani in una battaglia coloniale e non ricorda nessuno che sono almeno 500.000 le vittime della violenza coloniale italiana nel mondo. Poi bisogna stare attenti perché in Africa c'è una fetta molto importante, ma poi se parliamo di Africa ci rischiamo di dimenticare che è successo in Albania, nei Balcani o nelle isole greche. E quindi questa è una voragine, no? Poi appunto proviamo però a tesserla perché ci può travolgere questa voragine, ci può lasciare in parte senza parole ma anche senza... E quindi questa memoria va costruita e per fortuna quest'anno questa operazione sta diventando un'operazione che mette in rete una serie di ricercatori, di soggetti che in qualche modo voglio che venga istituita questa giornata di memoria, perché è una giornata di memoria molto importante in Etiopia, la di Sabebe è celebrata. E io penso che ci farebbe così bene. Se io penso allo stato di salute dell'Italia, degli italiani, penso che questa cosa ci restituirebbe il senso anche di quello che stiamo a fare qui. Che senso ha quello che facciamo se non sappiamo che i nostri nonni e qualcuno magari anche genitore ha partecipato all'eccidio della popolazione inerme, ha fatto cose atroci che non conviene, non ci interessa e non è quello che vogliamo fare. Ricordarne i gesti, anche se è un monumento bellissimo, lo ricorda la di Sabeba. Azione per azione, tutte quelle su cui ci sono testimonianze certe. Questo è un piano, ma la cosa che è ancora più incomprensibile è che se noi sappiamo questo e facciamo due passi, andiamo a Piazza Indipendenza e guardiamo alle camionette con gli idranti che sgomberano la gente inermi con i bambini, e quelle persone sono, e quella dinamica ha gli stessi protagonisti, gli italiani da una parte, gli eritre, gli etio dall'altra, questa cosa risulta, è veramente inaccettabile. E quindi conoscere, sapere, collegare. Poi ci sono anche circostanze e circostanze, nel senso che questo edificio ospitò nel 1931 il tentativo fascista di anticipare la grande esposizione coloniale di Parigi, e quindi ci fu la prima mostra dell'arte coloniale, e ci sono le immagini, l'istituto luce, no? E pure qui abbiamo ritrovato il catalogo, non l'abbiamo ritrovato qui, l'abbiamo ritrovato alla Biblioteca Arziana. E penso che questo, però adesso c'è Pasolini in questi luoghi, c'è la mostra di Pasolini, poi ci sono gli abiti di Pasolini, che non sono tanto diversi dagli abiti, dei costumi, che in questa scenografia abitata, in questa sorta di messa in scena, no? Si produceva dentro questo palazzo, per promuovere i prodotti coloniali, per fare esaltare, spettacolarizzare l'esotismo di figure, appunto, che venivano portate qui per fare scena. E anche, insieme, cavalcate della cultura italiana, no? La pittura, il secondo futurismo, che è attorno a un ruolo degli aeroplani e degli aeroplani che sorvolano l'Etiopia. Gli aeroplani che sorvolano l'Etiopia sono quelli che poi bombardano con l'iprite, no? Sono quelli che gasano le popolazioni. Beh, anche lì, sì, 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 quanto poco sappiamo di quella stagione culturale che noi, in qualche modo, a volte, discutiamo, legittimiamo o non legittimiamo, no? Che quanto si è spesa per essere legittimato dal regime fascista, attraverso questa rappresentazione aerea, no? Questo aereo, futurismo. Quindi, gli elementi sono tantissimi. E poi, appunto, noi già un po' di tempo che seguiamo questa vicenda dell'abitare a Roma, che, vabbè, poi Giorgio nasce, no? Proprio, e pone un paradigma di relazione fra l'abitare informale e l'arte, no? E noi, probabilmente, lavoriamo con dei linguaggi diversi, ma anche noi stiamo sperimentando questa cosa. E, fra l'altro, molti di noi, tutti noi, insieme al Madò, questo spazio costruito dentro Spintime, stiamo elaborando un paradigma dell'abitare con la consapevolezza di produrre cultura, cultura dell'abitare, no? Questo è il Madò che cerchiamo di mettere insieme. Ho parlato tanto, però era anche per distendermi nelle infinite distanze delle questioni che andiamo a affrontare e che, rispetto alle quali noi vogliamo ascoltare. Avremo delle persone competenti, ne abbiamo molte qui, avremo altre persone competenti che ci aiuteranno a capire. E poi, a noi ci piace, proprio perché l'operazione artistica non si croggioli nella rappresentazione di una crisi, di una criticità sociale, ma in qualche modo la agisca e quindi si sottragga all'ambiguità che spesso l'arte e la cultura hanno. Ci piacerebbe che insieme, quindi senza pubblico, come diceva Giulia, ma con le persone e con le comunità, con le culture diverse, con i linguaggi diversi, con le competenze diverse, con le conoscenze diverse, chi del colonialismo, chi di Pasolini, chi della situazione abitativa romana, ci ritrovassimo insieme a tessere, una narrazione difficile, ma che forse ritrovi il senso, il carattere dell'urgenza di insorgere con gli argomenti. Pasolini in questa mostra dice, io odio questo stato di cose, ma anche questo stato. Allora, l'odio non serve a niente, lo dice ancora Pasolini, e quindi cosa può fare l'arte e la cultura? E forse sicuramente quello che non può fare è permettersi di non avere ruolo in questa battaglia di civiltà che se non vinciamo ci travolgerà e la cui urgenza ambientale, sociale, è davanti ai nostri occhi, soprattutto a termini dove tutte le persone dormono per strada, quindi lo sappiamo, no? Va bene, scusate, l'ho presa un po' alla larga, forse ho parlato troppo, però penso che forse Sandro e Aster... Vogliamo passare... Eh, no, sì. Sì, Aster e Sandro, scusa. Aster e Sandro ci danno un altro libro, fra l'altro Aster ci dà un ennesimo elemento, che io non ho citato, che è quello di quanto succede oggi in Etiopia, all'ombra del disastro ucraini, noi non sappiamo quante guerre stiamo, e quanto queste guerre ancora fanno parte di questa storia e quanto ci vedono ancora protagonisti. Aster. Intanto buonasera a tutti, vorrei ringraziare gli organizzatori di questi eventi fino al 19 febbraio, specialmente sono molto molto contenta e grata anche al nome della comunità etiope, che ogni anno si celebra in Etiopia, che noi etiopi consideriamo uno dei peggiori massacri che il colonialismo italiano ha commesso in Etiopia. Ehm, come si diceva prima, è veramente triste che la storia coloniale italiana non viene insegnata molto profondamente nelle scuole e questo è una cosa su cui molti di noi dobbiamo riflettere. Però io oggi non voglio raccontare gli ACATIT 12 perché ci sono storici, come professore Triulsi, che sono molto più... insomma conoscono la materia più di me. Io sono contenta di essere qui per raccontarvi la tragedia dell'Etiopia attuale. È tragico non raccontare il passato, ma per me è ancora peggio non raccontare il presente. Perché viviamo in un mondo globalizzato, dove 24 ore su 24 abbiamo l'internet, informazione, tutto. Però le tragedie attuali, e specialmente per quanto riguarda l'Etiopia e anche altri paesi africani come il Congo e gli altri, non vengono raccontati. Io sono molto molto contenta che si racconta molto i telegiornali, gli analisti politici italiani che raccontano molto sulla guerra in Ucraina, perché è una guerra che si sta svolgendo dentro l'Europa. Però perché si dimentica l'Africa, perché si dimentica l'Etiopia? Io veramente vi dico quando ho studiato in Etiopia, per noi gli idoli dal punto di vista del giornalismo erano i media occidentali. Io ho studiato scienze politiche, relazioni internazionali, leggendo gli affari internazionali su Newsweek, Times, leggendo Washington Post, Reuters, BBC. E poi da questi tranni, specialmente dal conflitto che si è svolto in Etiopia, io penso veramente sono diventata molto critica dell'informazione occidentale. Per come è stato raccontato il conflitto in Etiopia, vi dico come Etiopia, veramente mi dispiace tantissimo, di una superficialità incredibile. Non tutti i giornalisti, però la stragrande maggioranza dei giornalisti, non solo gli italiani, ma anche a livello proprio europeo e anche americano. Molte volte anche un giornalismo molto di parte. Da lì in poi noi, la comunità Etiopia, ci siamo organizzati, abbiamo pure formato un gruppo che ha cercato durante il conflitto di raccontare, di contattare i giornalisti italiani per raccontarli veramente quello che sta succedendo sul terreno, quello che sta succedendo, perché veniva raccontato come bianco e nero, da una parte ci sono i cattivi, dall'altro i buoni, non è così. Nella politica etiopa adesso ci sono tanti tanti attori. È una situazione tragica. Se io vi dico che in questo momento in Etiopia sta andando avanti un genocidio, nessuno mi crederebbe. In questi due anni di conflitto sono morti un milione e duecento persone. La stragrande maggioranza sono giovani. E molti di loro sono minorenni. Qui si parla molte volte anche, con un po' di ipocrisia direi, dei lavori dei minori così, però io non ho visto tanti giornalisti che hanno parlato dei minori, che hanno combattuto in questo conflitto. E la stragrande maggioranza di questi giovani sono morti durante questo conflitto. In più abbiamo subito una devastazione economica incredibile. La guerra civile in Etiopia ha distrutto tre regioni. Tutte le regioni del nord Etiopia. Ha distrutto la regione Amara, la regione Tigray e la regione Afar. Sono stati distrutti i clinici, ospedali, i pochi asili nidi che c'erano, infrastrutture. Migliaia di donne sono state violentate. Violenze che fanno paura a raccontare. Donne che venivano violentate davanti ai mariti, alla famiglia. Molte donne si sono suicidate per la vergogna. Quando racconteremo questo? Tantissime donne anche adesso non hanno nessun tipo di assistenza. Molti sono anche malati mentali. Molti si vergognano. Abbiamo, solo nel nord Etiopia, 14 milioni di sfollati. E la stragrande maggioranza sono donne e bambini. Allora è benissimo raccontare l'Ucraina. Però dobbiamo dare anche un po' di attenzione ai paesi come l'Etiopia. La stragrande maggioranza di questi sfollati vengono assistiti da noi, dalla diaspora etiope all'estero. Quindi è una situazione veramente critica. Le organizzazioni umanitarie stanno facendo poco. Spesso gli aiuti umanitari vanno verso il Tigray perché c'è stata una lotta anche a livello dell'informazione sull'aiuto che non va al Tigray. Però le regioni Amara e la regione Afar non stanno ricevendo nessun aiuto. Questa è la parte sociale. Se prendiamo la parte economica, l'Etiopia è quasi un paese bancarotto. Abbiamo un'inflazione che fa paura. L'Etiopia è il secondo paese dopo Zimbabwe dove l'inflazione alimentare è il secondo paese per l'inflazione su prodotti alimentari dopo Zimbabwe e l'Etiopia. Io da qui dall'Occidente dico come fanno a sopravvivere molte persone. I professori universitari guadagnano, adesso avevano fatto anche uno sciopero insomma che non è andata benissimo, hanno una paga da fame. Molti di loro non riescono neanche a fittare gli appartamenti e vivono condividendo gli appartamenti in due, in tre, i professori universitari in Ediopia. L'aspetto economico fa paura, c'è una disoccupazione dei giovani che è una cosa incredibile. La politica è una situazione di tensione continua dal 1991, da quando l'Etiopia ha adottato, specialmente dal 94 al 95 ha adottato, una costituzione etnica. L'Etiopia è stata divisa in nove regioni etnici che combattono tra di loro e si comportano da stati. Ci sono lotte sui confini tra una regione e l'altra e il governo di primo ministro Abiy Ahmed, che è arrivato nel 2018, che noi etiopi per stragrande maggioranza l'abbiamo accolto con grande speranza, ci ha deluso. E' diventato lui stesso portatore di politica etnica. Da quando è arrivato lui in Etiopia sono morti migliaia di persone. Particolarmente io vi racconto, per favore, dateci una mano. Il popolo Amhara venne ucciso in Etiopia. Io non sono Amhara, io sono tigrina. Mia mamma è nata in Adua. Io dovrei difendere i tigrai, però io devo difendere quelli che vengono uccisi, quelli che vengono perseguitati. Le Amhara vengono uccisi dappertutto e il governo non sta muovendo un dito. A noi ci arrivano dei video incredibili. Molti di noi siamo entrati in depressione. Di mamme sgossate, di bambini tagliati a pesi. Sta succedendo di tutto. C'è un genocidio in Etiopia che sta andando avanti da quattro anni e nessuno racconta. Questa è la situazione in Etiopia. Adesso, dopo due anni di conflitto, il governo federale e il TPLF, l'organizzazione per la liberazione del Tigreal Liberation Front, hanno fatto un trattato di pace. Però è una pace molto molto delicata, perché molti di noi non sappiamo neanche il contenuto di questo trattato. Siamo solo contenti che non si sparano. Almeno i popoli che stanno al nord di Etiopia, gli amare i tigrini, almeno le donne e le mamme dormono in pace senza sentire bombe e spari durante la notte. E non stanno morendo i giovani. Però anche questo trattato è molto 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 delicato. Adesso vi dico solo una cosa, poi concludo, non voglio stancarvi. Da una settimana c'è una tensione che fa paura, perché questo governo di Abiy Ahmed è entrato a gambatese sulla religione. È entrato in guerra con la religione, che voi sapete la stragrande maggioranza degli Etiopi, siamo copti ortodossi. Adesso è entrato in conflitto con la Chiesa ortodossa. E ci sono manifestazioni dappertutto, perché il governo vuole dividere anche la Chiesa ortodossa su base etnica. Quindi è una situazione, io solo, in Amarico, nella Chiesa ortodossa si dice, io voglio solo dirvi, io voglio solo dirvi, tradotto vuol dire una campana di avviso, una cosa che può, voglio solo dirvi che il trattato di pace non ha risolto il problema dell'Etiopia. Prima o poi ne vedremo di peggio e sta succedendo anche di peggio, anche adesso. Quindi per favore diamo un'attenzione all'Etiopia. Vi ringrazio. Buonasera. Che dire, tante cose che... Io sono contento del film che abbiamo appena visto, perché è un po' lo spirito con cui io mi sono sempre incontrato con gli amici di Stalker, ed è un po' anche lo spirito in cui io penso che bisogna abbracciare quando si vuole ricostruire il dolore del passato. E' quello del presente. E' non separare il passato dal presente. E' capire che ci sono memorie nascoste, messe da parte, ignorate, che è il compito di tutti noi che abitiamo una città cosmopolita, come teoricamente dovrebbe essere la capitale di uno Stato dell'Europa di oggi, e che invece continuano a ignorare nella maniera veramente più brutta. L'Ucraina è sotto i nostri occhi. Se ne parla ossessivamente giorno e notte. Però, di nuovo, uno non può che ricordare il grande storico francese Bloch, che diceva che la guerra e le false notizie vengono sempre insieme. E' uno dei guai della comunicazione di oggi, che quando la stampa e i media si impadroniscono di un argomento, poi non lo mollano, è come un osso che non mollano agli altri. E quindi, prima c'è stato, tutti noi siamo passati attraverso il Covid, si parlava soltanto di Covid. Ogni sera vedevamo quest'ago che penetrava nel braccio di una persona. Era incredibile. Ogni sera cominciava con questa campagna di sensibilizzazione, o per altri, insomma, di propaganda di Stato, insomma. E oggi c'è la questione ucraina che avvolge tutto. Allora, almeno in momenti come questo, ci stiamo avvicinando a questo 19 febbraio, che in Etiopia chiamano Yekatit Asraulet, che vuol dire il mese di febbraio, nel lingua amarica, il 12 di febbraio. Allora, prima cosa, l'Etiopia non ha un calendario come quello nostro. Loro hanno un calendario giuliano, noi abbiamo il calendario gregoriano. Quindi c'è sempre difficoltà anche di questo tipo tra Italia e Etiopia. Ricordiamoci che il primo conflitto con l'Etiopia viene scatenato su una parola, su una parola amarica, che poteva dire può o deve. E l'interpretazione del governo di allora, fascismo non c'entra, l'interpretazione del governo di allora era deve, cioè il governo etiopico deve servirsi del governo italiano per essere rappresentato a livello internazionale, il governo etiopico, etiope, che a quell'epoca era rappresentato dall'imperatore Menelic II, diceva che il governo etiopico può servirsi del governo italiano per essere rappresentato all'estero. Su questa domanda, su questo piccolo termine, ma su questo qui pro quo, c'è stata la battaglia di Atwood, che è stato un elemento scatenante poi anche di quello che è venuto dopo. Io ora non posso raccontare tutto, però ricordiamoci che l'importanza di Adua nella occupazione dell'Etiopia. Bisogna vendicare Adua. E dico una cosa che dico spesso in queste cose, prima di Adua c'era stata la battaglia di Dogali, e i nostri 500 persone che sono morte in quella battaglia. La battaglia di Dogali è importante perché vede la riconciliazione tra Stato e Chiesa in Italia. Cioè per la prima volta le bandiere dello Stato italiano entrano nelle Chiese, fino a loro non potevano entrare, perché l'Italia aveva occupato militarmente lo Stato Vaticano e il Vaticano era in guerra con l'Italia. Dogali fa fare la pace. Dogali viene celebrata. Adua non viene celebrata. Non ci sono nomi di strade, di piazze, di luoghi. Adua, la cerimonia religiosa per i morti di Adua, è stata celebrata nel febbraio del 1937. Nel febbraio del 1937. E perché questo? Perché la vendetta era stata compiuta. Adua era stata vendicata. E Adua viene conquistata nel febbraio del 1937. E qui, a piazza Venezia, alla presenza del re d'Italia, di tutti i corpi d'armata, naturalmente Mussolini, tutto il suo staff, eccetera, viene celebrata la messa in onore dei caduti di Adua, 50 anni dopo. E cosa succede nel febbraio del 1937? Un'azione di resistenza, apparentemente anche scollegata da altri eventi, sono due ritrei in realtà, che lanciano due bombe a mano sul generale Graziani, che stava distribuendo le lemosine davanti al palazzo reale che lui aveva occupato, che era il palazzo dove stava l'imperatore Elie Selassie. Lui non viene ucciso, però muore uno o due persone e dopo di questo si scatena una violentissima, un violentissimo ecidio da parte della popolazione etiope e italiana e guidata dalle milizie fasciste, che per tre giorni saccheggia la città. Brucia, violenta, donne, bambini, uomini, si incendiano le capanne e si spara sulle persone che escono dalle capanne. Per tre giorni è un inferno. Tanto un inferno che a un certo punto Mussolini da Roma dice smettete, fermatevi, perché questo si sta trasformando in una cattiva notizia, una cattiva stampa per noi italiani. Le stime delle vittime sono sempre complicate, le ultime stime, quelle di Ian Campbell, sono di circa 20.000 vittime. Non sappiamo veramente se sono state questo, di meno, di più. Non è così importante. È che per tre giorni si è scatenata l'odio per l'altro. Allora, quest'odio per l'altro è stato, favorito da una enorme campagna di disinformazione sulla guerra d'Etiopia che forse i vostri nonni o i vostri genitori se lo ricorderanno, veniva seguito tutti i giorni nelle scuole italiane con le bandierine che venivano messe man mano che le truppe italiane andavano verso l'Etiopia e il tipo di informazione che veniva diffuso, il tipo di documentari, di notizie alla radio, ricordano un po' le storie di oggi. Cioè venivano mostrato il lato più selvaggio, il lato più, diciamo, deformante della società etiope. E quanto, invece, questa massa umana, metallica, meccanica di carri armati, di motociclette, aerei che andavano verso la capitale etiope, era in realtà il momento, non soltanto di vendicare Adua, ma per la prima volta di creare un impero. L'Italia ha avuto un impero tra il maggio del 1936 e il maggio del 1941. Allora, si potrebbe dire tante cose. Non se ne parlò allora e si è sempre cercato di nascondere tutto questo, perché effettivamente è imbarazzante. È imbarazzante, non si è capito mai quanto fossero responsabili i fascisti, tra virgolette, e quanto, invece, fossero responsabili anche la gente che abitava a Addis Abeba. Naturalmente, era in un luogo di guerra, la capitale in quel momento era accerchiata da truppe, da gruppi di guerriglieri e c'era un po' un senso di pericolo imminente e quindi c'è stata una strage in cui in qualche modo è stata fatta, è stata permessa che fosse fatta una strage. e noi italiani non l'abbiamo mai ricordata. Mentre invece in Etiopia, e anche questa è una cosa che mi sembra, in Etiopia le tre date importanti hanno tutto a che fare con l'Italia e sono la battaglia di Adwa il febbraio, il 19 febbraio e il 5 maggio non perché il 5 maggio le truppe italiane sono entrate a Addis Abeba ma il 5 maggio perché c'è rientrato l'imperatore che volutamente è voluto entrare il 5 maggio del 1941. Queste tre date hanno tutte a che vedere con lo Stato italiano. Allora, il Stato italiano è uno dei paesi diciamo che hanno appoggiato finanziariamente l'Etiopia durante gli ultimi venti anni. L'Etiopia ricordo che era un paese dal punto di vista economico saldissimo fino a qualche anno fa con cifre di sviluppo economico a due cifre ma con una crescente disuguaglianza tra nord e sud tra gruppo e gruppo e affianchiamo il passato con il presente queste regioni etniche che Aster appena ora ci ha detto che sono state create dal governo tigrino in realtà erano quelle create dal governo italiano durante l'occupazione. Tutti noi ci siamo molto stupiti ma come? I galla sidamo i tigrai la mara a far e come mai? Allora il passato e il presente in qualche modo si parlano si toccano e allora queste circostanze noi dobbiamo vedere come un piccolo fuoco intorno a cui persone di buone volontà si mettono intorno e ricordano insieme ricordano insieme il male e il bene ricordano insieme quello che c'è stato ricordano insieme le sofferenze ricordano insieme per che cosa? Per ricostruire ricostruire un terreno in cui le memorie possono parlare le memorie non la memoria perché è difficile oramai un paese devastato come l'Etiopia di oggi ci vorranno una nuova generazione che piano piano coltiva le memorie e le fonde in qualche cosa che è uno stato che sta insieme non incollato come sembra in questo momento che un pezzo sta da una parte un pezzo sta all'altro ma come sta come è successo per tanti anni l'Etiopia sta lì dal 1270 al 1270 c'è uno stato etiope con una monarchia etiope e con un territorio con delle leggi eccetera allora in Italia non viene raccontato né il bene né il male il periodo coloniale che riguarda l'Etiopia solo in parte perché quella non era una colonia l'Etiopia non è stata mai una colonia dell'Italia l'Etiopia è stata vittima di una occupazione militare di una occupazione militare ed è stata distrutta e sconfitta con armi illegali a cominciare dall'iprite dal gas da spezzoni incendiari tutta questa storia in realtà noi la vediamo ricostruita malamente oggi in cui invece il bisogno di ricostruire una storia comune è fortissimo le comunità del corno d'Africa fanno parte oramai del nostro vivere quotidiano lo sa Alessandra che spero dopo ora ci racconterà un po' e il passato è presente e l'emigrazione e l'immigrazione si toccano in queste memorie e Carlo Levi quando scrive Cristo si è fermato a Eboli ricorda che il suo stare ad Aliano inizia il 3 ottobre del 1935 e finisce il 5 maggio 1936 e allora il 3 ottobre non vi ricorda qualche cosa il 3 ottobre 2013 una nave con 368 persone del corno d'Africa in prevalenza Eritrei a un miglio da Lampedusa va prende fuoco e si capovolge due navi passano accanto a questa cosa e si allontanano e c'è stato un processo che ha condannato questa cosa quei morti quei 368 morti del 3 ottobre 2013 è un cortocircuito nella memoria del paese eppure non è venuto fuori il 3 ottobre è il momento in cui le truppe italiane attraversano il fiume Mareb e cioè entrano dall'Eritrea in Etiopia ecco questo questi corti circuiti continui che ci sono tra passato e presente tra gruppi che ormai vengono vivono in mezzo a noi e richiedono attenzione per le loro memorie le loro memorie anche italiane non soltanto le loro memorie del paese da cui vengono veramente ha bisogno di cura di un focolare come ha fatto Mirice ricordando raccontare insieme bisogna tornare a raccontare insieme ecco questa anche io ho parlato troppo e vorrei passare ora la parola ad Alessandra perché ci sono tanti borghetti pre-nestini ancora ancora a Roma ce ne sono una trentina di situazioni di questo genere in cui queste memorie si incontrano e si scontrano in cui queste memorie si combattono anche al loro interno e in cui l'operazione come dire di dire noi dobbiamo tener conto che oramai là non esiste una memoria di una enorme città come Roma ma esistono tante memorie e il nostro compito è raccogliere coltivarle averne cura e far sì che non esprimano soltanto odio ma anche ricomposizione voglia di stare insieme come come è giusto che sia e una città come Roma credo che se lo merita grazie Alessandra buonasera è abbastanza imbarazzante questa posizione sul palco io sono in genere abituata a stare dall'altro lato sono sono qui per presentare una parte della della prossima circostanza che costruiremo insieme agli stalker e in realtà ero presente anche alla circostanza quella che abbiamo visto nel video mi ha fatto molta tenerezza riguardare perché sembra uno spazio disperso nel tempo lontanissimo non era tanto tempo fa era solo due anni fa ed è stata la prima volta quella in cui ho avuto la percezione soprattutto quando eravamo sotto la pioggia a sentire Stefania che cantava ho avuto la percezione che il teatro la performance l'arte sono assolutamente necessarie all'umanità eravamo stati chiusi tanto tempo e ci ritrovavamo con una gioia incredibile sotto la pioggia a sentire una canzone uno stornello per me fu molto rassicurante perché io che lavoro in teatro e che faccio teatro e mi interrogo attorno al teatro che in questo perdo il sonno e la fantasia da parecchi anni ebbe un momento di luce però il lavoro con cui collaborerò a questa circostanza non sarà il giorno della circostanza ma sarà una settimana dopo e in un altro luogo non qui non a Palazzo delle Esposizioni ma a Palazzo Merulana con le Women Crossing che è la compagnia con cui lavoro da 5-6 anni le Women Crossing sono delle donne che hanno avuto un percorso di migrazione e che sono arrivate in Italia più o meno negli ultimi 15 anni ognuna in un tempo diverso ed è una compagnia molto particolare è una compagnia formata da donne e bambini cioè madri della scuola di Donato che vivono nei palazzi occupati ho scoperto quando sono venuta a Roma questa realtà dei palazzi occupati e ho scoperto l'incredibile bagaglio di ricchezza e di culture che è rinchiuso in questi palazzi occupati ho scoperto la comunità etiope che vive nel 4 stelle alla fine della Prenestina che mi ha aperto un mondo ho scoperto la comunità sudanese che vive alla fine della Prenestina divisa in vari palazzi mi hanno ho scoperto la comunità nigeriana che vive a Spintime a Santa Croce in Gerusalemme e queste queste donne queste diverse comunità lavorano insieme da qualche anno su vari temi e su varie questioni questioni letterarie da riportare alla luce ho scoperto una letteratura di cui non si sa niente oggi si riparla di Asserci diceva che ci sono cose ben più pressanti e urgenti di cui non si sa niente però è vero che anche la letteratura e la cultura sudanese in Italia potrebbero arricchire il patrimonio dei teatri la stagione della migrazione al nord di Tayab Sale che è uno dei testi a cui ho lavorato con la comunità sudanese che viveva alla fine della Prenestina e che abbiamo poi messo in scena insieme con gli stalker a piazza Vittorio in una delle circostanze è un testo bellissimo di cui non sappiamo niente ed è un testo bellissimo in cui si racconta come prende il mare per esempio un sudanese che si incammina verso il nord e che percezione ha di questo immenso deserto di acqua e questa cosa del mare è stata una delle cose che mi ha turbato di più in questa scoperta dei palazzi occupati oggi ero un po' in difficoltà perché pensavo perché io solo a parlare a Palazzo delle Esposizioni e non tutte le donne che fanno lo spettacolo in realtà sarebbe bello se veniste a vedere lo spettacolo poi dopo lo spettacolo loro parlano e sono contenti di raccontarsi però ci sono delle cose che sono difficili da raccontare davanti a un pubblico lo spettacolo crea una cornice e ci si può parlare di Agaish che è l'ultimo lavoro su cui siamo che porteremo in scena che è un processo un processo che è andato che è finito a maggio dell'anno scorso è un processo agli eritrei la comunità eritrei è stata indagata e due uomini sono stati per due anni in carcere per aver pagato i biglietti dell'autobus a due connazionali minorenni che erano sbarcati in Sicilia e che volevano venire a Roma e l'imputazione è stata di traffico internazionale di migranti il processo è stato 20.000 euro di multa e due anni di carcere gli imputati hanno avuto e dopo due anni di carcere per fortuna l'avvocato difensore è riuscito a dimostrare l'innocenza cioè l'assurdità delle tesi dell'accusa e che e quindi sono stati assolti e adesso forse avranno un risarcimento questo è il nostro ultimo lavoro e lo mettiamo in scena soprattutto perché c'è tanto bisogno di qualche storia con un lieto fine in questi tempi difficili adesso passo la parola Lorenzo che ci racconterà un altro pezzo del lavoro di circostanza di cui si è occupato lui o forse altro buonasera e innanzitutto mi scuso per il ritardo scusate ma avevo un impegno di lavoro quindi ho perso la prima parte e me ne dispiace perché insomma sembra sempre brutto arrivare e parlare così d'amblè senza aver seguito il ragionamento in realtà il ragionamento con le persone che stanno qui sul palco lo portiamo avanti da anni e parlando per ultimo mi permetterò di essere addirittura vagamente ottimista perché perché sì perché io credo che la città giustamente il professor Triulzi lamentava una mancanza di cosmopolitismo di Roma e tutti lo viviamo però è anche vero che le città alla fine hanno una loro forza che che trapassa che che vince anche su i mille le mille censure che abbiamo che esistono il colonialismo ha segnato sostanzialmente 80 anni della storia d'Italia dalla fine dell'800 al 1961 colonialismo diciamo nel corno d'Africa e il 1961 quando finisce l'AFIS l'amministrazione fiduciaria d'Italia quindi sono 80 anni di storia appunto quattro volte il fascismo che ne è durati solo 20 come sappiamo i conti con il fascismo non li abbiamo chiusi ma quelli col colonialismo forse neanche li abbiamo affrontati quindi c'è una difficoltà ancora maggiore per noi nel cercare in qualche modo di appunto coltivare le memorie di cercare dalle memorie disperse che abbiamo di costruire quello che poi è quello che politicamente che eticamente dobbiamo fare cioè una storia che per quanto possibile possa essere comune o comunque una storia appunto si parla sempre di memoria di storia di storia condivisa memoria condivisa in realtà io credo che la storia sia condivisa le memorie poi sono per fortuna e devono essere tutte separate perché è essenzialmente un fatto individuale quindi quello che poi politicamente dobbiamo fare è cercare di costruire una storia comune una storia appunto in cui si dica l'Italia per 80 anni ha fatto delle stragi per 80 anni ha governato in maniera criminogena criminale questi stati e queste ferite oggi continuiamo a pagarle non solo nelle vicende che ha raccontato che abbiamo raccontato sul palco su quello che oggi l'Etiopia su quelli che appunto oggi vivono a Roma nelle case occupate e queste ferite però la città ne porta traccia un po' il lavoro che abbiamo cominciato fin dall'anno scorso quando abbiamo fatto la prima manifestazione sotto il monumento di Dogali è proprio quello cioè di cercare di far vedere come appunto Piazza dei Cinquecento che tutti che penso il 95% dei romani il 98% degli italiani non sa neanche a cosa si riferisca se cominciamo a dire che quei 500 erano appunto i soldati impegnati a Dogali magari piano piano riusciamo a vincere questa coltre riusciamo appunto a fare un piccolo come si può dire un punto di luce su una situazione che appunto nessuno conosce le targhe le targhe è un interesse che abbiamo ad esempio appunto a Via Sistina c'è una targa che è dedicata a Gogol io questa targa la notavo chiaramente dopo il 23 febbraio dopo la guerra con l'Ucraina quella targa ha un altro significato innanzitutto perché in questa lotta fra la Russia e l'Ucraina c'è stato detto che Gogol è ucraino in realtà quella targa passateci a Via Sistina è fatta dalla comunità russa quindi le tracce del passato che magari sono state fatte non so quando è stata fatta questa targa presumo un centinaio di anni fa riletta cento anni dopo ci consegna un'altra cosa ci consegna appunto con l'occhio dell'oggi un'altra situazione e così questo diciamo per una cosa puntuale sulla guerra ucraina però è chiaro che le tracce coloniali a Roma sono tantissime domani faremo una prima esplorazione che poi nella settimana non so se ne avete parlato che abbiamo organizzato dell'Odicatit quindi tra il 14 e il 19 febbraio ne faremo un'altra perché? perché questo quadrante di Roma come tanti altri ha molte tracce di quella che è la storia coloniale a Via Napoleone III ad esempio guardavo qui su Google c'è questa targa per un eroe coloniale di nome Carlo Evangelisti a questo Carlo Evangelisti poi è stata dedicata anche a una scuola anche nella nostra scuola nella di Donato c'è un'aula dedicata a lui quindi anche lì delle distorsioni perché magari tre o quattro ragazzini sono del corno d'Africa e studiano nell'aula dedicata a un eroe coloniale e chiaramente anche qui sempre per capire come l'Italia poi i suoi conti non l'abbia fatti l'Italia liberale coloniale l'Italia fascista coloniale l'Italia repubblicana un po' coloniale lo è stato quindi ad esempio queste medaglie date a questo Carlo Evangelisti risale esattamente al 47 48 quando appunto magari un qualche un qualche criterio in più non dico se se lo poteva aspettare però appunto se poi andate sul sito del Quirinale dove sono conservate tutte le motivazioni delle onoreficenze date dall'Italia appunto quello si è assaltato da numerose forze ribelle penetrate nel territorio della sua giurisdizione chiaramente era una giurisdizione coloniale e i ribelli erano chiaramente le popolazioni colonizzate da questo Carlo Evangelisti e quindi questo perché perché appunto le città anche se fanno finta di non essere cosmopolite anche se fanno finta di nascondere la storia sotto la polvere sotto il tappeto in realtà continuano a fornire storie e quindi pensavamo di fare un passaggio in questa in questa targa fare un passaggio al monumento di Togali e tutto questo nasce da qui diciamo un po' di ottimismo da un ultimo periodo in cui molti hanno riversato dell'interesse sulle storie coloniali chiaramente in primis Alessandro Trivulzi e chi appunto nell'ambito universitario ha potuto studiare queste cose e io diciamo l'ho presa un po' più da un punto di vista della letteratura nel senso che per fortuna pensiamo abbastanza misconosciuti ma bellissimi sono ad esempio i romanzi coloniali di Camilleri c'è questo la presa di Magallè che appunto affronta tutta la la cosa che raccontava Sandro di questa occupazione che veniva seguita dagli scolari italiani e la segue e ne parla in questa presa di Magallè con tutta diciamo echi anche diciamo di di Gaadda di tutta quella cosa di Eros e Priapo quindi di tutto quell'aspetto del fascismo in cui il colonialismo andava di stretto braccio con il maschilismo con il patriarcato si direbbe oggi però sostanzialmente quell'idea appunto che l'uomo bianco occupava la faccetta nera con tutte le le conseguenze e con tutte le cose che conosciamo quindi da anni un po' appunto Camilleri penso anche a ad altre esperienze in primis quella con cui sono più legato quella di Vuming che hanno raccontato varie volte queste esperienze appunto non solo Timira ma penso anche a Pointe Lenana in cui diciamo non c'è proprio la colonia strettamente perché lì si svolge diciamo in Kenya però sostanzialmente è non solo prossimità geografica con quelle aree però è proprio l'idea ad esempio degli italiani che da colonizzatori venivano imprigionati e spediti degli inglesi in Kenya quindi una storia che la letteratura senza poi contare appunto Giabba Ciego Cristina Lifarra tutte queste afrodiscendenti che per fortuna da più o meno una quindicina d'anni possono scrivere di quelle storie quindi in questa settimana abbiamo deciso di fare alcune esplorazioni e il 14 incontreremo appunto Giabba e altre persone afrodiscendenti per cercare di raccontare la colonia non solo loro che raccontano il loro passato ma anche e questa è un po' la scommessa che vogliamo fare noi nel senso che io ho avuto un nonno che è stato in colonia ora a giorni farò un'intervista a mia zia e mi farò raccontare come loro come mia madre e le sue sorelle abbiano vissuto questa esperienza è chiaro che sono tanti rimossi che abbiamo perché appunto io di mio nonno in colonia ho la classica foto a cavallo cavallo che direi bianco perché l'iconografia voleva che l'uomo colonizzatore avesse il cavallo bianco però che ha fatto mio nonno in colonia va sicuro non lo so ha partecipato da Tissabeba potrebbe cioè è chiaro che è una ferita che ognuno di noi deve avere il coraggio di aprire probabilmente verrà fuori che come tanti era andato lì boh un po' per spirito d'avventura un po' per scappare questa cosa perché e poi concludo perché ho avuto anche qui la fortuna anni fa di conoscere la storia di Giuseppe Marincola che era appunto un italiano andato in Somalia e in Somalia fa due figli questi due figli uno è Giorgio Marincola che pure lì per fortuna in anni di lotte siamo riusciti a far un po' riemergere perché è stato sostanzialmente un importante partigiano sempre diciamo di questo quartiere perché ha studiato con più l'Albertelli qui a Piazza Santa Maria Maggiore e di questo Giorgio Marincola per fortuna forse anche qui bisognerà stare un po' attenti se era detto gli verrà dedicata la nuova metropolitana a Porta Metronia i nostri governanti cittadini che non brillano per coraggio probabilmente rirarranno questa scelta che aveva fatto la precedente amministrazione però appunto anche lì dovremmo vigilare un po' e poi c'è Isabella appunto che era la sorella su cui poi Wuming ha scritto questo libro romanzo che si chiama Timira anche questo ormai è uscito esattamente dieci anni fa e quindi tutti questi personaggi che occupavano e erano colonizzatori poi hanno in qualche modo come si può dire riportato in Italia qualcosa appunto mio nonno non si sa bene cosa lo capirò intervistando mia zia Giuseppe Marincola questi due fratelli e dalla vita alquanto particolare ma un altro personaggio che abbiamo incrociato ma insomma pure qui non mi dilungo però per esempio un altro personaggio che nessuno conosce è un tale Umberto Valle Umberto Valle torna in Italia fa un figlio che si chiama Giorgio Valle e qui credo che il nome di questa persona all'interno di questa sala non susci di particolare interesse se non il fatto che è probabilmente stato uno dei peggiori terroristi neofascisti d'Italia e Giorgio Valle era italo-eritreo e ha combattuto scusate il termine che finora usato in maniera bella è stato membro dei NAR con Giuseppe Valerio Fioramanti e Francesca Mambro è stato uno dei peggiori fascisti di questo paese quindi le colonie appunto 80 anni di storia non possiamo derubricarle a fatti secondari le colonie hanno portato a tante cose e piano piano cerchiamo un po' attraverso le circostanze attraverso le esplorazioni della città attraverso queste forme di narrazione che vanno dal teatro ai romanzi a cui facevo riferimento e attraverso le storie personali e dovremmo anche avere un po' il coraggio di dare fuori di parlarne grazie sì e l'ultimissima cosa giustamente mi diceva Giulia e non so parliamo due secondi di questa settimana che abbiamo organizzato l'abbiamo organizzata insieme a questa federazione delle resistenze che è una cosa legata un po' ai Vuminga a Bologna a Reggio Emilia a Palermo che ci saranno e che per la prima volta il 19 faremo un'iniziativa unica nazionale perché l'anno scorso avevamo fatto alcune diciamo iniziative locali qui a Roma eravamo andati al Monento di Togali loro avevano fatto delle cose a Bologna quindi da 3-4 anni che cerchiamo di fare qualcosa per Iegatit e quest'anno finalmente anche su Spinta che sta nascendo un po' a Roma intorno a una libera comunale fatta nell'ottobre cerchiamo un po' di dare visibilità a questa cosa il programma è molto vasto è una settimana con forse anche troppe cose però secondo me è importante che le cose siano troppe perché appunto Melius a abundare come norma di vita e a maggior ragione su una questione così delicata come il colonialismo grazie a proposito di targhe lo scorso anno appunto ci siamo ritrovati a piazza dei 500 con la comunità etiope e alcuni di noi con la scuola di Donato e il Madò e abbiamo in cartone fatto la proposta che la piazza diventi piazza delle 500.000 come potete vedere qui quest'anno vorremmo che questo cartone diventi travertino vorremmo veramente insieme alla scuola e con l'occasione della circostanza Pasolini fare una targa vera nel travertino come sono le targhe di Roma e proporla che si possa insomma andare in quel percorso perché questo nome della piazza possa cambiare sì allora Venesi di Marmo pesa quindi questa scuola deve attivare anche attivarsi e riuscire a trasportare questa insomma a vederle sembrano piazza invece poi quando le prendi in mano sono anche molto pesanti queste targhe quindi va bene grazie intanto a tutti ora forse nonostante la distanza nonostante diciamo proprio anche l'altezza diversa forse scendendo giù non lo so c'è sempre questa sarebbe anche bello che invece siccome per una tanti sono anche di là con cui abbiamo lavorato con cui forse lavoreremo non abbiamo lavorato per cui apriamo un attimo un momento di riflessione noi sappiamo per certo che alle 8 dobbiamo essere tutti fuori di qui questo c'è stato detto con molta sincera chiarezza abbiamo ancora un pochino di tempo magari possiamo anche andarci a prendere una cosa giù al bar che è carino ognuno si prende una birra e chiacchieriamo però qui secondo me sarebbe bello che ci fosse appunto un dialogo fosse anche una domanda fosse una riflessione o qualcuno che ci può portare la sua esperienza possiamo partire con Mirice c'è pure Pierre e quindi possiamo anche partire con i protagonisti sono stata chiamata? no si là dietro a sì Sì. Dammi due parole sul... dammi un là. O sull'esperienza, come partecipare alle circostanze, non so. Il... il... Rainbow...